Buonasera, mi chiamo Giuseppe Labarbera e sono l'autore del libro 77 minuti che è un thriller. Il protagonista del mio libro, Erminio Costantini, è una persona normale sui 45 anni. Suo malgrado si troverà coinvolto in una brutta storia che metterà in pericolo la sua vita. La vicenda inizia con un'aggressione vicino a via Garibaldi, piazzetta dell'Università dei Mastri Minusieri. A volte la linea che separa la giustizia dalla vendetta è molto sottile, se non del tutto inesistente. La storia si farà sempre più avvincente ed emozionante e vi terrà inchiodati alla lettura fino alla fine del libro, con il classico colpo di scena finale. Grazie e buona lettura.